Gli strumenti digitali che esistono attualmente sono sicuramente la piattaforma di e-learning. La piattaforma di e-learning aiuta ad aumentare e incrementare l'engagement dei dipendenti attraverso anche degli strumenti di social learning. Che cos'è il social learning? Il social learning è una forma di community all'interno proprio dell'azienda che viene creata dal dipendente stesso dove il dipendente non diventa più un attore passivo della formazione ma diventa un attore attivo. Quindi il dipendente non subisce più la formazione ma diventa lui ingaggiato a diffondere la cultura aziendale. Questo quindi cosa ci porta ad avere dipendenti più produttivi ma anche dipendenti dove diventano loro i protagonisti del cambiamento della cultura aziendale. Quindi creano la loro community, decidono loro quali sono i contenuti. Ad esempio se io sono il marketing manager e vedo un TED Talk molto interessante che può interessare al mio vicino di banco o al dipartimento di comunicazione divento io l'attore e dire ecco questo è il contenuto che ti diffondo perché so che può essere di tuo interesse.